Musica Ben ritrovati con l'informazione, apriamo il nostro giornale con la cronaca. I vicili del fuoco sono intervenuti la notte scorsa in località Albignasego, vicino a Padova, per un incendio divampato all'ultimo piano di una palazzina. Le squadre sono riuscite a spegnere l'incendio dell'appartamento pieno di catastre di giornali e riviste. L'occupante dell'alloggio è stato portato all'ospedale per accertamenti, sia provveduto allo smassamento di tutto il materiale cartaceo per la messa in sicurezza dell'immobile. Intorno alle 4, ristabilite le condizioni di sicurezza, i condomini degli altri appartamenti sono stati fatti rientrare. L'assessore al commercio di Cittadella, Filippo De Rossi, indagato con l'accusa di tentata concussione per aver chiesto favori sessuali in cambio della regolarizzazione dei permessi di due commercianti ambulanti, ha rassegnato ieri pomeriggio le proprie dimissioni dalla Giunta. Era stato eletto nel 2016 con la lista civica Forza Cittadella, a sostegno dell'attuale sindaco leghista Luca Pierobon. Una storia terribile a cui dopo moltissimo tempo è stata scritta la parola fine. Ci sono voluti oltre 20 anni perché si aprissero le porte del carcere per un 47enne nato a 90 Vicentina, ma residente nella bassa Padovana, condannato per abusi sessuali nei confronti dell'allora sorrellina 11enne della seconda moglie. All'epoca dei fatti avvenuti nel 1996, la ragazzina aveva trovato il coraggio di rivelare alla sorella che l'allora 25enne la palpeggiava in casa e in auto, costringendola a masturbarlo. Da lì è scattata la denuncia ai carabinieri di Longare e le indagini che hanno portato all'arresto dell'uomo. Il vicentino in precedenza, presa nome di un locale notturno in città, è stato prelevato nella sua abitazione, in provincia di Padova. L'uomo arrestato ieri dalla squadra mobile di Vicenza per conto della Corte d'Appello di Venezia dovrà ora scontare 4 anni e 4 mesi per una serie di reati accumulati. Oltre alla violenza sulla ragazzina, sul suo conto pesano anche reati fiscali, quelli omesse registrazioni di dipendenti, utilizzo di mano d'opera clandestina e mancate comunicazioni fiscali, oltre ad altri abusi sessuali a danni di minori. Si terrà domani alle ore 17, nell'aura magna del Bolla, trentesima edizione della cerimonia per il conferimento del titolo di Padovano eccellente del 2017. Questo riconoscimento viene conferito a quei cittadini che hanno cooperato in vario modo nel loro campo di attività a mantenere alto il nome di Padova, contribuendo così a rendere grande la nostra città. L'eccellenza di una città non sempre dipende da nobili personaggi o da uomini di grande rilevanza intellettuale, ma anche da cittadini semplici ed onesti che con sacrificio e onestà, spesso in maniera silenziosa, danno valore al vivere quotidiano. Ecco perché tra i Padovani eccellenti si annoverano anche personaggi illustri, di chiara fama e concittadini genuini e riservati, ma ugualmente fieri della loro patavinas. Quest'anno verranno insegnati dal titolo di eccellente otto concittadini che avranno l'investitura ufficiale dal governatore dell'Ordine dei Padovani eccellente Gaetano Rampinna. E nuove richieste a rinvio giudizio da parte della Procura di Vicenza per il crack della Banca Popolare di Vicenza. I PM hanno depositato le domande per il secondo troncone dell'indagine riguardante l'ostacolo agli organismi di vigilanza, Consob, Banca Italia e BCE. Per il solo ostacolo alla Consob hanno chiesto il processo per l'ex direttore generale Samuele Sorato, il suo vice Emanuele Giustini e la stessa Banca Popolare Vicentina. L'ex presidente Gianni Zonin e tutti gli altri indagati, già nel primo troncone, sono chiamati a rispondere in ostacolo alla vigilanza verso Banca Italia e verso BCE. Sbarca per la prima volta in Italia a Venezia la storia del pittore cristiano siriaco Matti Alcanun, le cui opere sono state sfregiate dall'Isis e la cui storia è stata raccontata da un giornalista, Emanuele Confortin. L'isola di San Servolo ospiterà quindi dal 16 marzo una ventina di opere restaurate dal pittore, dagli studenti e dal Cafoscari. Qui hanno appunto abbinato foto a scattate dal giornalista Confortin sulle scene di guerra, insieme ad un documentario sulla storia dell'artista. La riforma del fondo di garanzia al ruolo di Veneto sviluppo nel mercato dei capitali per le piccole e medie imprese. Cosa cambia nello scenario del credito per il 2018? Per rispondere a questa domanda e per presentare gli strumenti a disposizione di imprenditori e imprese per sostenere l'accesso al credito e la competitività, la Confapi Padova ha organizzato questa mattina a Villa Italia un incontro di approfondimento con gli stessi protagonisti che presenteranno le novità e i cambiamenti in atto. Ha aperto infatti i lavori Carlo Valerio, presidente di Confapi Padova, con gli interventi di Paolo Pesce del Ministero dello Sviluppo Economico, strumenti per le piccole e medie imprese strutturali e a bando. E ancora Fabrizio Spagna di Veneto Sviluppo. A chiudere i lavori Jonathan Morello Ritter, presidente nazionale dei giovani imprenditori Confapi. Bene, torniamo a parlare di questa iniziativa avuta oggi, esplorata proprio oggi presso Villa Italia a Padova dalla Confapi, questa nuova associazione. Uno dei temi più polemici che si sono avuti nell'incontro con alcuni rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico è stato il fatto che si fa un gran parlare di legge Sabatini, di legge di voucher, piuttosto che di finanziamenti a fondo perduto, ma poi il soldone salta fuori che se ci sono troppe domande il Ministero ha la facoltà poi di ridurre anche in maniera molto drastica quelli che possono essere i vantaggi, non solo, mettendo poi in seria difficoltà le aziende stesse che guardando il profilo del voucher piuttosto che della legge Sabatini, piuttosto che di finanziamenti a fondo perduto, per cercare un aiuto in questa crisi, in questa situazione, diciamo così, sicuramente non florida, del nostro paese, si trovano addirittura in branca di tela. Esattamente. Il problema fondamentale... D'assoluto anche Giacomo, giustamente. D'assoluto a voi, grazie, ormai sono di casa, quindi non è un problema. Giacomo. Il problema fondamentale nelle aziende deriva da... a chi ha la possibilità di investire, quindi cerca in qualche modo, avendo comunque dei budget che deve stanziare all'interno dell'azienda per un piano di crescita nell'ambito di quella che è l'alta professionalità, perché comunque questi finanziamenti o comunque questi voucher o queste attività vengono fatte non tanto per quella che è l'ordinaria gestione aziendale, ma per andare a fare un'implementazione dell'azienda in ambito sia strutturale, ma anche professionale. Detto questo, se un imprenditore o un'azienda tenta di fare un'operazione del genere, cerca anche se c'è la possibilità di avere dei fondi, dei fondi per i quali ci sono delle domande particolari da andare a stilare, nel quale si ha una graduatoria. Il problema che è entrato in quella graduatoria dovremmo avere la sicurezza, e dico dovremmo a questo punto, avere la sicurezza che nei momenti in cui ho fatto un investimento, fatto 100, che se c'è l'agevolazione del 50% a fondo prodotto, il 50% mi ritorni. Certo, e non si può secondo me prendere in giro le imprese, anche le stesse start-up, io mi metto nei panni di chi prepara una start-up per sviluppare una nuova attività, per darsi anche un progetto nuovo di vita, perché poi diventa anche questo. Tante volte le start-up nascono da quelle branche di vecchie aziende, chiamiamole così, o comunque di idee innovative, in ambito di qualcosa di vecchio, che però serve avere della liquidità per riuscire ad andare avanti, riuscire a portare avanti questo progetto innovativo, perché altrimenti non serve una start-up. Infatti voglio dire, poi c'è la concorrenza con le altre aziende europee che godono invece di governi seri, ma io guardate, ho una sensazione, ma questa è la mia sensazione, che è troppo facile poi dal burocrate scaricare al politico. Oggi come oggi ho questa sensazione, magari è una sensazione sbagliata per carità, ma visto anche un po' il convegno a cui ho assistito questa mattina, ho invece sempre di più questa sensazione, che il burocrate sbaglia, fa degli errori di valutazione e poi scarica tutto al politico che magari in quella occasione, in quel preciso momento di euforia presenta il progetto già stilato dal burocrate, dai tecnici del Ministero, come fosse una cosa sua. Però sappiamo bene, il gioco delle parti è quello. Secondo me, vedendo come funziona l'ambito italiano attualmente e come ragiona la collettività, penso che sia una scaricabarile costante da una parte all'altra. E non lo dico alla disfattista, perché altrimenti non sarei qui a lavorare nel Stato italiano, ma mi sarei trasferito all'estero. Come purtroppo altri hanno fatto. Come tante realtà, ma comunque noi avevamo già pensato in passato di andare ad aprire delle realtà all'estero per la nostra struttura, perché essendo mediamente organizzata abbiamo le possibilità molto di più all'estero rispetto che in Italia per gestire in modo di alta qualità quello che è il servizio alle imprese. Quindi comunque l'idea è di andare all'estero, ce l'abbiamo anche noi nel pur piccolo. Detto questo, credo che ci sia una situazione particolare nell'ambito italiano che da una parte non è che magari sbagliano, diciamo così, magari errano nel reperire troppe informazioni o troppe domande e qua non ce ne sarebbe la disponibilità. D'altro canto, per riuscire a risolvere il problema, ci sono quei non detti, quei sottesi nel passiamo la palla alla parte politica perché tanto è sempre colpa loro. E credo che questa sinergia di nascondersi uno con l'altro nell'ambito di quello che è l'imprenditore medio italiano, penso che sia arrivato a un livello di sopportazione che sia rasente allo zero. E lo abbiamo visto proprio oggi nell'incontro a Villa Italia. Bene, io ringrazio come sempre Giaccon, dello studio Giaccon, che ci dà la possibilità di fare anche un confronto da imprenditore, quale tu sei, e noi che invece ci occupiamo di informazione per capire meglio anche il tessuto, diciamo così, sociale a cui noi ci rivolgiamo. Bene, grazie per l'attenzione e il GR, anzi il telegiornale continua. Si rafforza la collaborazione tra il Friuli Venezia Giulia, Veneto e Croazia, attesa a sviluppare la cantieristica navale e le relazioni commerciali tra imprese e centri di ricerca nell'area adriatica. Nell'ambito del programma Interreg Quinto Italia-Croazia, infatti 2014-2020, è partito il progetto BIT, il kick-off meeting del progetto, svoltosi proprio da Union Camere Veneto, mira a consolidare l'innovazione e la cooperazione fra le imprese italiane e quelle croate operanti nella Blue Economy, stimolando lo sviluppo della creazione di un cluster transfrontaliero e delle tecnologie nella cantieristica italiana. E parliamo ancora di imprese. Le imprese dovrebbero essere tassate, dove realizzano gli utili all'interno di un regime armonizzato che utilizza anche le attività online per calcolare il carico fiscale. Con 438 voti a favore, 145 contrari, 69 assazioni, i deputati del Parlamento europeo hanno approvato infatti la base imponibile comune consolidata per l'imposta sulle società, la CCCTB, parte di una proposta più ampia che mira a creare un regime unico di tassazione all'interno delle imprese dell'Unione Europea. Una misura distinta e complementare che crea la fondamenta di questo sistema, vale a dire la base imponibile comune per l'imposta sulle società, che è stata approvata con 451 voti in favore, 141 contrari e 59 assenzioni. Le misure mirano a colmare i vuoti normativi che hanno permesso però ad alcune società digitali e globali di ridurre in maniera drastica le proprie imposte, evitando di pagare le tasse dove generano i loro profitti. Si è tenuto un incontro tra l'amministrazione dei sindacati e i sindacati, amministrazione ovviamente comunale di Padova, in merito ai servizi che le cooperative forniscono servizi partecipando a bandi pubblici. Queste cooperative si trovano spesso ad offrire dei servizi diretti al cittadino e le rappresentanze sindacali hanno posto il problema delle condizioni dei lavoratori all'interno delle stesse cooperative. In particolare è stato posto il problema del criterio del massimo ribasso per l'affidamento dei servizi, che rischia di tradursi spesso nel mancato rispetto dei contratti nazionali dei lavoratori. Tra le richieste presentate all'amministrazione di Padova, quella di non usare esclusivamente il criterio di massimo ribasso, ma di utilizzare l'offerta economicamente più vantaggiosa, principio che tiene maggiormente conto della qualità del servizio offerto. Parliamo dell'Istituto d'Arte Selvatico e il suo recupero. L'adozione del bilancio 2018, firmato proprio martedì, 13 marzo, formalizza che 4 milioni e mezzo di euro ci sono tutti. Di questi 2 milioni e 250 mila euro arrivano grazie al finanziamento ottenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo già nel novembre scorso. Gli altri 2 milioni e 250 mila euro sono risorse proprie della provincia di Padova e una volta licenziato il bilancio dal Consiglio provinciale, entro il prossimo 30 marzo, il bando per la gara di affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva dovrebbe rispettare il cronogramma, seppur sfidante, con il bando per i lavori che potrebbe essere varato entro il 2018. È bene far chiarezza, l'ho detto in modo pubblico, l'ho detto anche di fronte a consensi ampi, l'ho scritto come impegno nero su bianco, oggi se questo serve mi viene da rispondere che sull'istituto selvatico, un patrimonio non solo della città ma di tutta la provincia direi un patrimonio straordinario artistico ma ancora di più un patrimonio nei nostri ragazzi, nelle nostre eccellenze per il mondo dove di fatto manager, artisti e eccellenze anche nelle aziende sono testimonianza di quale patrimonio è selvatico stato ed è tutt'oggi e rispondo dicendo che il decreto numero 17 del 13 marzo 2018, ho firmato l'approvazione del bilancio 2018 come avevo anticipato sia ai professori, al preside, ai mondi interessati, agli studenti stessi avremo finanziato 4 milioni e mezzo di euro per far partire immediatamente il restauro e il recupero di questo istituto, di portare la volontà della provincia di riportare gli studenti dentro la loro scuola, la loro sede centrale storica e questo oggi nel decreto pubblicato, consultabile nell'albo online della provincia, ci sono 4 milioni e mezzo di cash, moneta sonante che troveranno via libera definitivo per l'utilizzo il primo aprile perché di fatto per legge dobbiamo approvare il bilancio il 30 marzo, al massimo 30 marzo e quindi sinceramente a tutti coloro che forse non è arrivato il messaggio e che pensavano che la provincia stesse scherzando sono atti concreti. La Padova Marathon, il programma proprio domenica, 22 aprile, non è soltanto un appuntamento di primo piano ma questo calendario podistico internazionale vede anche una grande festa in città e nel suo territorio, lo è grazie alle straccittadine, le corse non competitive che ogni anno coinvolgono oltre 20 mila presenze. Ricordiamo che lo è anche attraverso un fitto carnet di eventi e iniziative che mirano a valorizzare l'arte, la storia, la cucina, la musica, l'ambiente e le attività commerciali di Padova. Vediamo. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato, che continuano a lavorare, tutto il volontariato, le associazioni di categoria, le associazioni di volontariato, sportive, ma tutte le istituzioni, tutto il sistema, tutti coloro che saranno, ci sono stati, ci saranno anche il 22 aprile e ci saranno anche poi perché tengono a Padova, sentono Padova e credono che Padova deve vincere, ma non vincere tanto nell'agonismo solo, ma vincere nella vita e qui c'è moltissimo visto che abbiamo tanta disabilità, tante chariti e tanto mondo anche non agonistico che è presente e che forse è il nostro punto più vincente e diverso rispetto a tante realtà. Ritorna a Padova, Irlanda, in festa, il grande evento che celebra il giorno di San Patrizio e la cultura irlandese. Giunto a Padova alla sesta edizione, il programma della manifestazione punta su un perfetto e autentico mix tra musica dal vivo, gastronomia e cultura made in Irlanda. Presso il Gran Teatro Geox domani, attenzione, si terra la grande anteprima di questa sesta edizione con un weekend di feste in cui non mancheranno ovviamente la musica dal vivo e la tradizionale birra scura irlandese. Ricordiamo che il weekend sarà un'anteprima della consueta grande festa prevista ad aprile di quest'anno che omaggia ormai l'incontro magico e fortunato tra i due paesi e le due culture così diversi ma anche così affini. Stiamo parlando ovviamente di Italia e Irlanda. E torna ai nostri teleschermi anche questa sera l'appuntamento con il Tarlo, con il collega Alberto Salmaso. Ovviamente l'appuntamento è fissato con i suoi ospiti alle ore 21.05. Grazie per l'attenzione, buona visione dei nostri programmi. Grazie.